buongiorno buon pomeriggio buona serata allora ho fatto veramente di tutto per rendermi appetibile insomma appetibile no proprio brutto proprio sembra insomma piacente in questo video poiché sono giorni molto pesanti perché insomma sto studiando sto cercando di raggiungere degli attestati per motivi di lavoro e quindi sono bersagliata di corsi giorno dopo giorno però ci tenevo a fare questo video perché comunque me l'avevo fatto un sondaggio su instagram non so quando andrei in onda questo video spero tra domani e dopodomani di poterlo montare questo video haul su tutti gli acquistini che ho fatto per il bimbo sono in bagno perché man mano che sistemavo che vi faccio vedere le i prodottini li ho sistemati proprio nel nel mobile suo del bagno e quindi poi la luce comunque è favorevole perché fuori c'è la tempesta da stamattina appunto che pioggia vento buio insomma le condizioni di luce non erano per niente favorevoli quindi ho detto perché no andiamo nel bagno e registriamo la comunque la luce comunque lo permette allora vi faccio vedere in questo video tutta una carrellata di cose che ho comprato per lui tutto quello che servirà in ospedale e quello che servirà comunque a casa come prima occorrente necessario poi più là magari farò ulteriore scorta e poi tutto ciò che riguarda anche me quindi coppetta assorbi latte insomma tutto ciò che mi servirà anche per il dopo parto igiene personale eccetera quindi spero che magari ci sia ci sia qualcuno di voi in gravidanza so che c'è magari questo video vi potrebbe essere anche utile niente vi lascio le immagini e niente ci vediamo poi per i saluti finali ciao ecco avete questa bella visione allora per il borsone c'erano diverse combinazioni diverse marche mi è piaciuta questa dell'umana qua lo scatolo si presenta così questo è vuoto perché voglio far vedere comunque lo scatolo ecco qua adesso lo prendo e vi faccio vedere tutto quello che c'è all'interno questo lo mettiamo qua e allora questo è il borsone abbastanza cambiante direi la borsa si può fare sia a tracolla che eccola qui che è a zainetto credo si faccia così esatto diventa a zainetto allora all'interno troviamo tante belle cose allora queste salviettine che ne ho comprate poi altre due a parte queste qua che sono salviette delicate ad acqua quindi si possono anche lavare benissimo le manine e la boccuccia del bimbo senza comunque insomma altre altre cose all'interno soltanto acqua poi abbiamo lo shampoo anti lacrime ovviamente questa è tutta una linea bio esclusivamente a base di latte vegetali di latte vegetale poi abbiamo la crema viso mani ecco qua insomma tante tante carezzine poi per questo bimbo poi il talco liquido talco liquido che ancora non ho odorato ma sarà favoloso io adoro il bimbo la pasta protettiva bene o male il packaging è uguale per tutti e poi non c'è più niente l'olio da bagno ecco qua quindi anche queste tante carezzine sembra sembra odore di abbronzante del mare buono ecco qua e questo è tutto quello che c'era all'interno del borsone un borsone devo dire pratico è un tessuto tipo 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 ginsato dentro ha un'altra tasca poi abbiamo una tasca con credo termica e poi un'altra tasca normale io ne avrò due borsoni perché poi ci sarà quello del trio del passeggino vetto e carrozzina ho comprato altri due detergenti quindi onde evitare che magari in ospedale si acchiappino poi tutti i produttini che vi ho fatto vedere prima ne ho comprati altri due a parte dell'aveno questo è baby hair body wash quindi funge sia da appunto per pulire il corpo e i capelli dell'aveno e poi questa crema a olio sempre a base di olio e di mandorle dolci questa qui e insomma devo dire sono tutte e due affidabilissime perché questa linea è eccezionale poi ho comprato i quadrotti ovviamente io mi sono ottenuta tutta la lista che poi ti dà ogni ospedale insomma così in modo tale da non dimenticare niente questi quadrotti che serviranno per fare il primo bagnetto e i primi bagnetti sono dei quadrotti di cotone poi ho preso la spugnetta di mare da usare solo a casa e non in ospedale e poi un set molto carino per diciamo la sua manicure va bene quindi qua c'è questo lastruccino che si apre e all'interno abbiamo tutto 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 completo spazzolina, taglia unghia, forbici, la pompettina per aspirare il mucchetto, il pettinino, le sue limette e appunto la spazzolina ci sono anche kit da 25 euro, l'ho trovato un'esagerazione, questo mi è costato 13 euro, ripeto era quello più economico poi il suo profumino, questo è della Trudy, ho sentito diverse fragranze, questo è un'acqua di colonia con miele e fiori di bergamotto non vi dico, sembra un mix di proprio il classico odore di colonia e un retro gusto di non bergamotto, diciamo un po' più di limone ecco, favoloso, non vedo l'ora di sentirlo sul suo collo poi andiamo ai pannolini, ho sempre usato Agis anche per i miei primi due figli questi qua sono proprio per i primi giorni, le prime settimane vanno proprio da 2 ai 5 kg, di questi ne ho presi per ora due pacchi poi questi ciuccetti non li ho comprati ma me li hanno regalati mio fratello e la fidanzata sono proprio quelli i primi giorni, supporta la respirazione fisiologica, insomma sono ergonomici sono proprio i classici commotti della Kiko che secondo me sono i migliori e poi ho preso così proprio per emergenza un biberon, insomma in un futuro un poco d'acqua, un poco di camomilla quando sarà il momento di dario perché comunque allatterò questo qua è anticolica dell'avente poi passiamo alla mamma stavamo dicendo per la mamma questo bel gran malloppone di assorbenti post parto perché sarà un cesareo quindi ci vogliono belli belli pesantucci poi un detergente ho preso questo per casa per dopo saugella e poi le mutandine per tenere appunto l'assorbente queste sono mutandine monouso le ho prese più alte possibile credo siano più comode di queste ce ne sono unicamente 5 culotte sono lavabili poi tra una poppata e l'altra per ammorbidire il capezzolo ho preso queste salviettine della Kiko che sono credo semplicemente ad acqua con vitamina e glicerina servono per idratare al meglio il capezzolo e prepararlo alla poppata unico ultimo articolo è questo delle coppette assorbilatte mi sono fatta consiglia dalla ragazza insomma erano in offerta e ho preso queste non ricordo di aver usato queste negli anni precedenti ce ne sono circa 30 bene il video termina qui insomma spero che non vi abbiano fatto impressione a quegli enormi assorbenti da dopo parto ma purtroppo per chi ha avuto cesario insomma sa che cosa si andrà poi incontro ma teniamo duro e niente questo è tutto fatemi sapere nei commenti chi è in gravidanza anche chi non insomma magari per un'amica uno spunto per un'amica per una cugina insomma fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate un bacio ciao